ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono un matto allora io ho due canali ve lo ridico comunque benvenuti in questo nuovo video scusate per la mia assenza come al solito perché sai oggi dopo cioè oggi questi giorni ho avuto tanto da fare e quindi se vedete questa telecamera questa visuale diciamo che perché ho deciso di farvi di fare un film anche io lo vedrò su youtube poi non so se vedete al cinema lo faranno uscire comunque vorrei dirvi questa cosa mi scuso veramente tanto per la mia no assenza oddio per la visuale che non mi potete vedere ma mi vedete così e comunque vi sto dicendo che come la mia assenza è stata lunga è appunto per il film ho fatto tantissime scene per il film e se sentite il mio padre e la cosa più importante vi do dire che voglio che vi piaccia il mio film non so se vi piaccia perché non è che ve lo costringe comunque ragazzi io vi faccio vedere solo un pezzo non ho tutto che cavolo tutto poi diventa una tragedia e tutto ve lo faccio vedere dopo alla fine cioè quindi tra qualche mese a qualche settimana mi inizia subito se no è un lo fa io comunque è buona missione los angeles due giorni dopo oh è la bella dunque è bella aspetta la mamma e allora io sto su youtube credo che tu lo sappia e faccio no gioio perché io ho solo un video fatto cazzo cazzo merda visto cazzo sta scalando anche la notte cazzo siamo finiti la recensione è troppo alta la recensione non potremmo fare nulla troppo alto anche per lo stendino lo stendino no si aspetta è di carta la palla forse la prima cosa potremmo fare è scappare altrimenti siamo morti per il modo sta arrivando è la fine del mondo se forse merda sta facendo sempre più freddo ma da te guarda dobbiamo tagliare non so degli alberi merda shit shit giorno che sta scavalcando cosa non so mamma mia il ferimento lo viene nel mondo oh oh merda ma che mi piace masca del ca bella a tutti ragazzi ok ragazzi se il video vi è piaciuto commentate con il video e noi ci vediamo al prossimo video bella